Anche l'Astigiano avrà il suo nuovo movimento che, come il Movimento 5 Stelle insegna, parte dal basso. Cambiare si può è il nome dell'ambizioso progetto politico che ha già preso piede in Italia e che si propone come alternativa al movimento fondato da Beppe Grillo. Venerdì sarà presentato ufficialmente ad Aste, alle ore 21 in comune. La campagna è nata a Roma da illustri promotori del mondo culturale e accademico italiano, nomi altisonanti come Marco Revelli, Luciano Gallino, Don Marcello Cozzi, vicepresidente nazionale di Libera. Il primo firmatario astigiano dell'Appello è lo studente Stefano Bego. Anche ad Aste perché crediamo che anche ad Aste ci siano le condizioni per portare avanti un ragionamento politico, un ragionamento che verrà presentato alle prossime elezioni politiche, in cui si crea un nuovo schieramento radicalmente diverso da quello che abbiamo visto finora. Un schieramento che proporrà politiche diverse rispetto a quello che ha portato avanti il governo Monti con i suoi alleati, con il PD, il PDL e gli altri partiti che l'hanno sostenuto e diverso, più democratico, più partecipato rispetto al Movimento 5 Stelle. Crediamo che anche ad Aste sia possibile e il 14 alle 21 in ex salari consigliari a comuni di Aste rappresenteremo questo progetto.